Salve gente, benvenuti! Oggi sono qui con Elisa per mangiarci delle schifezze americane che abbiamo comprato da 99 centesimi che si trovano un mar volante per arrivare in questo posto siamo tipo dove attraversare una selva la prima cosa che andremo ad assaggiare è questo velu- velucious di alzo, siamo qui qua sembra be- allora dal pat dal pupi aspetta, poi fanno con le altre cose non si spensa, allora premiamo è morbido, oh porco ciao è buonissimo sto sempre questo velucious di alzo è tipo una girella le girelle sono le mie preferite mangiamo? mangiamo? mangiamo è una girella è una girella più buona buonissimo mi sento pesa non la pesa la salita è ancora alta la salita è ancora alta è ancora lunga ma se una salita è alta nooo la salita è dura ma la vista è bella io non volevo dire questa cosa scusa non lo voglio perchè io ti ricordo che ho appena montato due panini col bacon prima di iniziare a mangiare gli snack prima di iniziare a mangiare gli snack ho mangiato tipo un frigorifero un lampadario sticosi super dolci oddio tra un po' vomito in pratica sono delle delle anatre come chiamano i pulcini i fili delle anatre sono natroccoli i fili dei cini i fili dei cini ma non è vero ma in cazzo si i pulcini i fili delle anatre le galline praticamente sono fatti così ma è un po' ma non è un semplice marshmallow è un marshmallow ricoperto da un soffice strato perché c'è lo zucchero fuori sai se li arrostiamo che buoni che diventano belli croccati però già mi sto venendo voglia di vomitare prendiamo una cosa di salata ecco come sempre con queste cose che già ci siamo mangiati che sono tipo come si chiamano? i rizzi esatto soppi vomitare così facciamo vi direi che ho finito ma facciamo il big music con tu che vomiti in anteviva no il retro gusto è cosa non mi piace hai presente? quelle delle macchinette a scuola le croccantelle dai le macchinette della scuola le superiori le croccantelle le pizza le croccantelle buone loro lo sanno per cosa sto parlando la seconda cosa che ma non è la seconda tipo la sessa sono dei pesci chiamano goldfish non mi piace il cheddar il formaggio con l'arancione che mettono dappertutto le cose ma c'è il cheddar oh terremoto un terremoto ma non è proprio queste cose che sembra latte questi si mangliano quando sono ah si mannaggia ma sembra ciò per cazzo per cani dove sta un fazzoletto? non è un fazzoletto una busta acaa mmm pesce sa di niente infatti sa di classica sa di niente però che ti non può dire trogusto di questo e va bene ragazzi queste erano noi ci facciamo vedere un'intossicazione alimentare alimentare vi terremo aggiornati seppur vi terremo nei prossimi 15 minuti in descrizione c'è il link per l'altro video che vi faccio me chissà che sarebbe la parte 2 di questo video poi inoltre ci sono i link per twitter, per facebook e per questi nostri social ciao ciao aspetta ciao ciao oh mamma mi ha lasciato l'entusiasmante ciao ciao ciao